Ho la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito la pera come andare Ho un problema nella testa, funziona la metà, ogni tanto parto un solo E ogni volta che mi parte si fa marazzante, come quella volta che stavo al ristorante Non so se so pazzo o solo un gelio, faccio i selfie ma si Allora è perché io non mi fumo canne, sarò a disnegno, io non faccio brutto ma Il frattore intangenziale, andiamo a comandare, andiamo a comandare